E' questa la sede di Via Belge in zona industriale a Padova che potrebbe essere aggiudicata all'asta il prossimo 25 ottobre. Uffici, deposito, magazzino, uno scoperto e un impianto fotovoltaico di oltre 2.300 metri che tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo hanno ospitato il quartier generale della Società di Costruzioni Mantovani, leader del settore delle opere pubbliche, impegnata tra gli altri nella realizzazione del passante di mestre dell'ospedale all'angelo del Mose. E' proprio lo scandalo Mose rappresentato per l'azienda una sorta di canto del cigno. L'arresto del presidente Pier Giorgio Baita, che poi ha patteggiato, la perdita di clienti e di mancati incassi dovuti a processi contenziosi dopo una prima asta andata deserta a giugno, si riparte da una base di 2.539.000 euro.